Sono una bacchetta magica da 25 cm, una bacchetta magica non ha nessun tipo di trucco questo tipo di bacchetta ma è una cosa molto importante nei giochi di prestigio la bacchetta magica ti permette di catalizzare l'attenzione, ti permette di fatta aiutare dal tuo assistente e dare la bacchetta magica e ti permette di mettere le mani in tasca mettiamo che io ho la mia bacchetta in tasca insieme a una moneta che in qualche modo devo far apparire o impadronirmi io non posso andare con la mano in tasca a prendere la moneta, potrei essere osservato invece con la scusa di prendere la bacchetta io dentro la tasca mi impadronisco anche della moneta e la stessa cosa, mettiamo che io in qualche gioco mi ritrovo con un oggetto in più in mano e ho necessità di scaricarlo, di metterlo in tasca ecco, questo oggetto che ho in mano, quindi il spettatore non voglio che sappiano lo lascio facilmente in tasca e se io vado in tasca a prendere la bacchetta magica in tasca lascio la moneta e prendo la bacchetta magica a questo punto posso mostrare le mani vuote senza creare sospetti la bacchetta magica in uno spettacolo di magia è importante a questo punto è importante a questo punto è importante